Tre comunità, quelle di Candela, Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia, unite dalla passione per il calcio e dalla lungimiranza di due grandi realtà imprenditoriali dell'area del Subappennino Dauno e del Sud Italia. L'era Crea Calcio si è presentata ai propri tifosi venerdì scorso in vista dell'inizio della prossima stagione, che vedrà la formazione dei Monti Dauni partecipare con grandi ambizioni al campionato di prima categoria campana. Il presidente Gennaro Casillo, figlio di Don Pasquale, protagonista dell'epoca di Zemanlandia ed il patron Giuseppe De Vitto, nonché vice sindaco della città di Candela, hanno tracciato gli obiettivi ambiziosi di una società che punta in alto, cercando di unire un territorio dalle grandi potenzialità. Ospiti della serata, l'ex bomber di Fiorentina e Bari, Pietro Maiellaro, nativo proprio della città di Candela, e Sario Masi, presidente della Fondazione Capitanata per lo Sport, gli amministratori del comune di Candela ed il sindaco di Rocchetta Sant'Antonio, Pompeo Circello. Durante la serata è stata presentata la squadra, che vedrà Antonio Compierchio dividersi tra campo e panchina in qualità di allenatore. La responsabilità è doppia, sia da giocatore che da allenatore, però sono convinto che i ragazzi mi seguiranno, sperando di portare quanto prima dei risultati, anche per la stima, per tutto l'ambiente che ci sta vicino. Passione per il territorio e voglia di far bene nelle parole del presidente Casillo e del patron De Vitto. Ho accettato subito l'invito del mio amico Giuseppe De Vitto e della famiglia De Vitto, con cui condivido prima di tutto un'amicizia, come vi ho detto, e poi alcune iniziative imprenditoriali importanti in Capitanata. Ho visto una comunità positiva che ho iniziato a vivere nell'ultimo anno, una comunità fatta di gente per bene, di gente che lavora e quindi non ho esitato un attimo a cercare poi, insieme a Giuseppe, di portare la mia esperienza a ciò che mi è stato trasferito. Eh sì, questo territorio ci siamo resi conto che ha bisogno di noi e noi siamo scesi in campo, l'abbiamo già fatto negli anni scorsi, lo facciamo quest'anno con più grinta, più entusiasmo, con tanta passione, con Gennaro, con il quale condividiamo amicizia, lavoro e anche calcio, quindi speriamo di far bene per queste comunità e per questo territorio.